Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto diffusori da pavimento casse acustiche 3. Poderosa coppia di diffusori per sostenere il vostro home theater e i fi serie. Ottica naturale e qualità del suono più pulito. Una coppiata vincente con un eccellente rapporto prezzo prestazioni. La Benveni Hyundai con le LB776 mette a segno un altro colpo? La tecnica ha tre vie. Il design bass reflex e l'abbinamento con i buoni componenti danno vita al concerto, con la risonanza del telaio in legno, che rende il suono dinamico e poderoso anche agli stadi più alti. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T., clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.